Non c'è solo spazio per il cinema e videogiochi alla View Conference di Torino. Ofeq Shilon è un medical trainer della società israeliana Symbionics. Il suo lavoro è costruire tecnologie di realtà virtuale che allenino i medici nelle operazioni più difficili. Queste sono operazioni molto difficili per fare e possono fare una strada di trening. La forma che la maggioranza di questo trening è fatto, la forma che le dottori hanno spazio di pratica è di pratica su pazienti, di pratica suoi e io. E la forma che noi a Symbionics credo questa pratica dovrebbe essere fatto è di pratica sui similatori, Ma qual è la reazione dei medici di fronte a queste nuove tecnologie? Overevvamo. People sono utilizzati a pensare di cge e questo tipo di disciplina come strumenti, asciugati e strumenti. E noi li 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 lii, praticamente a dare a salvare le lives. Per i sottotitoli aiutari, per l'ultima generazione di medici, questo prende un'adaptazione, questo prende un'adaptazione, questo prende un'adaptazione, ma vediamo questo cambiamento, vediamo ora, il mercato matura e molte società medico stanno esprimendo interesse in questi simulatori come strumenti, e stanno esprimendo attivando per certificare, per testare i doktori, per garantire certifiche per fare certe operazioni. Le società medico stanno esprimendo simulatori per validare, per certificare i loro membri.